Quindi spero che adesso riusciate a vedere, se non altro, qui nel gruppo, verso un viso in forma e poi mi collegherò in qualche modo anche con la pagina ufficiale. Allora, datemi qualche segno se si vede e sente. Io intanto cerco di condividere. Fatemi qualche segno se si vede e se si sente. Intanto che vi aspetto. Aspetto che vi colleghiate. Oggi vi ricordo che abbiamo un ospite che al breve vi presenterò e si parlerà di moda, di stile e di colori. Quindi rimanete collegati, intanto che io faccio le ultime verifiche che si veda qua. Allora, vediamo se ci sono. Dovrei esserci nel gruppo. Ok, vedo che c'è qualcuno qui. Grazie. 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 Grazie a tutti. Oggi è il primo aprile e si vede che la tecnologia oggi mi fa degli scherzi. grazie a tutti. Allora, adesso invito su Giovanna, quindi diamo un caloroso saluto a Giovanna che adesso viene con me qui sullo schermo. Oh, eccoci. Ciao Giovanna. Ciao. Adesso mi sono ricordata che il primo aprile e tutti questi scherzi di collegamento, veramente, mamma mia che agonia. Benvenuta e scusami per il ritardo per tutto questo ambaradamma, alla fine ce l'abbiamo fatta. Dai, l'importante è riuscirci l'ora della fine, insomma. Bene. Esatto, intanto benvenuta qua nella mia, adesso siamo nel gruppo verso un viso in forma con lo yoga facciale, ma comunque anche sulla pagina di yoga facciale e sai che io insegno alle donne a risplendere attraverso la ginnastica facciale, tu invece aiuti a risplendere la bellezza delle donne attraverso il vestiario, il modo di vestire, attraverso il look. Ecco, puoi un pochino dirci intanto cosa fai, cosa, tu so che tu sei appunto consulente d'immagine, che bello, dici un po' cosa fai di bello. Allora, io aiuto le persone a migliorare il loro aspetto esteriore, il loro look, quindi attraverso il look anche a valorizzarsi, quindi a trovare uno stile personale che le aiuti sia sul piano personale che per esempio sul piano professionale ad avere un'identità unica, riconoscibile e che quindi le consenta anche a interagire con le persone in modo diciamo più efficace. Ecco, perché si sa che la prima impressione mette sempre gli altri in una buona disposizione verso di noi. Quindi se siamo piacevoli nel modo in cui ci poniamo, ovviamente tutto diventa anche più semplice, no? In qualche modo sia nei rapporti appunto personali che evidentemente professionali e tutto parte, nel mio caso ovviamente, dalla cura dell'abbigliamento. Bene, infatti ti vediamo, complimenti per il look anche tutto preciso. Eh beh, se non lo faccio io, ho appena detto che l'immagine è la prima cosa che arriva e quindi questa è la dimostrazione, insomma. Ovviamente si entra anche in un argomento di gusti, quindi ciò che è soggettivo, quindi ciò che piace a livello proprio di gusti personali, però è indubbio che a livello universale una persona che si presenta bene, a di là del fatto che abbia un look che magari non corrisponda alla nostra sensibilità, però comunque oggettivamente le si riconosce in questo aspetto, no? Piuttosto che una persona che arriva in modo sciatto, ecco. Allora, io ho avuto la fortuna e il piacere di avere una tua consulenza quando ero a Milano per lavoro e quindi ho qua la mia, adesso la voglio mostrare, la mia palette personale di colori. Questo tratto dalla armocromia, ci dici un po' come l'armocromia e perché a me hai consigliato questi colori? Certo. Allora, l'armocromia, che è una materia che diciamo è poco nota generalmente, ma ultimamente sta, come dire, venendo un po' a galla, è una scienza fondamentalmente che si applica alla teoria dei colori e che serve per capire come le diverse persone vengono poi classificate per stagioni. Mi spiego meglio. Si parte dall'analisi di quello che è il sottotono della pelle che può essere quindi freddo o caldo e questo lo si indaga attraverso l'utilizzo di drappi colorati specifici. Cosa vuol dire freddo o caldo? E freddo o caldo vuol dire che ci sono alcune persone che hanno una pelle che è tendenzialmente rosata piuttosto che dorata, piuttosto che ambrata o più olivastra e queste differenze di colori della pelle sono proprio legate al nostro sottotono, proprio alla composizione della nostra pelle, no? Quanta o melatonina c'è più o meno e dove vira, no? In che sfumatura vira. Quindi in base a questa classificazione proprio della pelle e al suo colore si va a dividere le persone fra calde e fredde, quindi per fare degli esempi concreti se sei una fredda evidentemente avrai una pelle che è o rosata come per esempio la mia oppure olivastra, se invece sei una calda avrai la pelle che potrà essere tendenzialmente dorata, ambrata oppure sono quelle belle pelli dorate ma tipo delle donne sudamericane, no? Quindi non so, una Jennifer Lopez è sicuramente una donna calda per capirci. quindi si parte da questo primo parametro che è caldo o freddo. Il secondo parametro è l'intensità, quindi quanto questa persona ha dei colori naturali con riferimento a capelli, occhi e pelle che sono più o meno intensi, quindi guardando me per esempio io e te siamo due buoni esempi per fare questo, diciamo parlare di questo parametro. E' una questione di colori naturali al di là dell'abbigliamento. Io sono una persona molto intensa e tendenzialmente contrastata perché ho questa pelle da biancaneve e come biancaneve ho i capelli molto scuri e gli occhi molto scuri. Quindi io arrivo un po' come una lampadina accesa alle persone perché ho proprio questi colori molto forti che poi io ovviamente replico nell'abbigliamento, non è casuale che io metta il bianco nero. Tu per esempio hai un'intensità più bassa o si dice più soft nel gergo della consulenza d'immagine. Cosa vuol dire? Che i tuoi colori naturali nel loro insieme, quindi se io prendo in considerazione i capelli, occhi e pelle, sono tra di loro molto più omogenei, armoniosi, bilanciati. Quindi questo ti fa perdere contrasto ma ti fa conquistare appunto in armonia. Io se vuoi sono più disarmonica ma dissonante in qualche modo, proprio per questa durezza del contrasto. Tu invece sei più armonica. Tante volte le persone quando io faccio questa spiegazione mi dicono eh no ma il contrasto è bello, l'intensità è bella, che tristezza essere soft. Ma non è vero, è tutto relativo perché se poi a una donna soft, come nel tuo caso, le si va a dare dei colori giusti, quindi le si va a creare la sua palette di colori personalizzati, questi colori la renderanno altrettanto intensa ma in un modo diverso, semplicemente diverso. la valorizzeranno in modo armonioso e in linea con quello che è il suo schema di colori naturali. Sì, questo è già da soli senza magari conoscendo l'armocromia, alcune volte quando metti qualcosa addosso dici caspita però come mi sta bene mi risalta senza saperlo magari che hai azzeccato il colore giusto. Ma perché io dico sempre che ciascuno di noi è un po' consulente di immagine di se stesso perché appunto come dici tu di pancia percepiamo qualcosa che non va. Ma perché ognuno di noi ha comunque nata una sensibilità per il gusto, il colore, l'armonia, l'equilibrio. Quindi quando c'è qualcosa che stona lo si percepisce. Quello che una consulente di immagine fa è spiegarti perché nel caso specifico di un vestito quel vestito di pancia non ti piaceva o ti sbatte per esempio. È proprio legato a questo discorso dell'analisi del colore che indaga appunto sottotono quindi caldo o freddo, contrasto e intensità e poi c'è un altro parametro che se volete è il più semplice da indagare che quello del valore dominante ovvero se una persona è tendenzialmente una persona scura quindi una mora o se è tendenzialmente chiara quindi una bionda con gli occhi azzurri per esempio. Però anche lì ci si potrebbe confondere e qui poi veniamo al tema delle stagioni. Perché tutti questi parametri poi insieme nel loro mix vanno a definire ognuno di noi in quale delle quattro stagioni è. perché le stagioni sono appunto primavera estate autunno e inverno e ci sono le due stagioni fredde che sono l'inverno e l'estate poi le due stagioni calde che sono l'autunno e la primavera. Prima io ho parlato di donne con un valore dominante chiaro quindi biondo però potrebbero esserci nel caso specifico delle bionde che quindi fanno parte della categoria summer quindi estate piuttosto che invece primavera. E come si fa a capire dove sono una consulente diciamo che occhio nudo dovrebbe essere in grado di farlo ma il lavoro di analisi del colore che si fa insieme alla cliente proprio perché poi la si accompagna ad avere lei una consapevolezza delle differenze. Quindi il fatto che io per esempio quando tu sei venuta da me e ti abbia fatto indossare drappi non serviva a me. Io lo sapevo già dove eri nel cerchio delle stagioni. Serviva a te per arrivare a capire perché succedeva questa cosa e come i colori su di te cambiassero a seconda di come venivano indossati e abbinati. Perché alcune volte uno si può impuntare magari a un colore preferito e lo vuole a tutti i costi indossare però poi quando glielo metti su vedi che infatti sbatte un po' e non c'entra molto con appunto il proprio colorito. Certo ma allora diciamo che la cosa fondamentale è senz'altro definire quella che è la tua palette di colori amici quindi quei colori che valorizzano le tue caratteristiche naturali. Detto questo come sempre io ripeto come mantra la palette non deve diventare una prigione perché sempre in questo percorso che si fa insieme la consulente ti insegna quali sono le regole del gioco anche eventualmente per romperle e ti dà anche gli strumenti per come rompere queste regole ma senza fare danni. Mi spiego se c'è un colore che ti piace in modo particolare piuttosto se ne parla insieme e se è proprio un colore lontanissimo dal tuo mondo allora io ti dico guarda Petra l'arancione non fa proprio per te però magari abbinato a uno dei colori della tua palette questi due colori insieme creano un mix che tutto sommato può essere sostenibile nella ruota dei colori che si divide poi in colori freddi e colori caldi in gergo tecnico si parla di colori analoghi quindi colori vicini tra di loro che poi altro non sono che il tono su tono quando si dice ah ti sei vestita tono su tono cosa vuol dire che sono due colori vicini tra di loro in una sfumatura diversa ma che come dire avranno evidentemente una base o calda tutti e due o fredda tutti e due no? certo però si può anche ragionare di abbinamenti a contrasto e cosa sono gli abbinamenti a contrasto? sono esattamente l'abbinamento di un colore freddo più uno caldo tipo bianco e nero? allora bianco e nero in realtà nella ruota dei colori se vogliamo proprio essere precise non vengono considerati dei colori il bianco e il nero non sono colori nel cerchio di itten non ci sono il bianco e il nero ci sono tutti gli altri ma non c'è il bianco e il nero poi noi li usiamo come colori basic chiamiamoli neutri ma non sono considerati colori perché sono proprio le due estremità della gamma dei colori i colori sono tutti gli altri sono il giallo il rosso tutti quelli che sono i colori primari che poi mischiati tra di loro danno vita agli altri colori no? e quindi i contrasti quali sarebbero ad esempio puoi farci qualche esempio? qualche esempio di? i contrasti che stavi dicendo che si possono utilizzare certo allora per esempio si parlava di arancione un contrasto meraviglioso con l'arancione è il viola e il viola è tendenzialmente un colore che ha dentro tanto blu e quindi è un colore freddo quindi per chi ama per esempio i contrasti forti delle donne creative che hanno uno stile creativo questo è sicuramente un contrasto molto bello ma potrebbe essere un non so un nero più un color senape potrebbe essere un rosso corallo con un verde foresta che invece è un verde freddo no? dipende poi ovviamente in quale posizione sei di questa famosa ruota dei colori però in quel caso per l'appunto si parla di colori complementari o a contrasto che poi se ci pensate quello che troviamo nelle vetrine nei negozi cioè a meno che non si compri un capo che è a tinto unita e allora quello è indiscutibilmente o caldo o freddo ma se andiamo per esempio sulle fantasie capita spesso nella moda che si trovino le fantasie dove ci sono tutti e due diciamo i mondi quindi il mondo dei colori caldi e il mondo dei colori freddi anzi è quasi un diktat nella moda mischiare due colori proprio perché in questo modo si creano abiti che in teoria possano andare bene a tutte no? perché ovviamente la moda qual è l'obiettivo? che vendere i vestiti allora se noi però ragioniamo dal punto di vista della consulenza di immagini quindi di quelli che sono i nostri colori quelli che ci stanno bene ovviamente non possiamo sempre vestirci a tintonita ma qual è allora il trucco per capire quale fantasia comprare? guardare il fondo della fantasia quindi se io sto valutando di acquistare un vestito che ha una certa fantasia e io per esempio sono una donna che di base è fredda io guarderò che il fondo di quella fantasia sia di un colore freddo e poi magari il disegno sopra che sia un po' a che sia un fiore o una geometria se anche è caldo fa niente cioè diciamo che nell'insieme della fantasia l'importante è che un bel 60-70% sia di colori freddi su cui poi sono innestati dei colori caldi allora in questo caso il mix non sovrasta la persona che indossa quell'abito perché il problema è proprio questo cioè il concetto dell'abito che ti sovrasta e quindi ti mette in secondo piano l'armocromia cosa serve? serve a far sì che gli abiti ti valorizzino, ti rendano protagonista gli abiti sono una cornice dalla quale tu esci e appunto arrivi in primo piano come se si fosse degli attori su un palco noi siamo davanti dove c'è il proscenio con le luci e poi c'è la quinta dietro ecco cioè immaginiamoci questa scena se l'abito che indossiamo è giusto noi saremo sotto come dire l'occhio di bue riflettori sì esatto se l'abito che indossiamo invece è troppo per noi ha un colore che ci cancella, ci annienta, ci nasconde è come se noi fossimo nascosti nell'ombra delle quinte no? e quindi nessuno ci vede un altro esempio che io faccio sempre è quando per caso vai in giro per strada incontri qualcuno e questo qualcuno ti dice ma che bella maglietta che hai oggi quando riceviamo questo complimento vuol dire che è la maglietta sbagliata perché vuol dire che la persona ha guardato la maglietta e non ha guardato noi lo so come ti sta bene, non la maglietta ma come stai bene, cosa devono dire? esatto, se invece ti dicono come sei bella oggi, come stai bene oggi vuol dire che quella maglietta sarà sicuramente bella ma è bella per te, cioè ti sta valorizzando quindi vuol dire che non è la maglietta che arriva prima al mio sguardo ma arrivi prima tu al mio sguardo questo è l'effetto del colore giusto ovviamente che poi va mixato anche a tutto un discorso poi di stile, di come calare i colori all'interno del proprio stile personale perché poi parlando di fantasie c'è chi ama i fiori c'è chi invece li odia quindi bisogna andare anche a capire tutte queste variabili in qualche modo io penso sicuramente è un ottimo investimento fare proprio la consulenza perché poi risparmi nell'acquistare vestiti inutili perché tante volte compri qualcosa senza appunto diciamo conoscere i colori che ti valorizzano e ti riempi l'armadio di vestiti che poi magari non indossi più di tanto invece io adesso che ho la mia palette vado con questa e vado direttamente sui colori che rientrano nella mia palette senza magari star lì a perdere tempo anche quindi questo è un vantaggio di sapere quali colori sono più adatti alla propria persona, non personalità certo, diciamo che aiuta sia a spendere meno quindi a un bel deterrente perché appunto come dici tu entrando in un negozio sia colpo d'occhio vedi che non c'è niente per te prendi e te ne vai e lo fai anche senza come dire sensi di colpa o rimpianti ecco quindi non ti capita di dire ah però quel vestito non l'ho provato però forse avrei dovuto provarlo cose così esatto e soprattutto evita che ci si riempia l'armadio di vestiti inutili che si è comprati solo sull'impulso della pancia esatto e terzo vantaggio è che quando tu cominci a comprare tutte cose in palette e coerenti col tuo stile hai un armadio con poche cose tutte abbinabili tra di loro per cui io dico sempre che anche una mattina che non accendi la luce se quello che c'è dentro l'armadio è corretto e prendi due cose a caso comunque tra di loro stanno bene ma è così è un po' il concetto della capsule wardrobe poche cose che si riescono a ricombinare per x outfit quindi questo è un ulteriore vantaggio e sicuramente insomma aiuta aiuta tantissimo proprio a fare ordine mentale se si ha questo approccio difficilmente poi ci si dimentica di avere nell'armadio quella maglietta che ti ricordi di aver comprato ma non sai che fine ha fatto perché è infilata in un angolo recondito magari quella con l'etichetta su esatto esatto ma quante volte c'è successo tantissime io per esempio organizzo due volte l'anno sempre in occasione del cambio di stagione un webinar o un workshop che serve proprio ad aiutare le persone a orientarsi nello shopping del cambio di stagione perché ovviamente uno dice adesso ok esco in vetrina trovo cose che a non so se mi stanno bene dal punto di vista del colore b non so se mi stanno bene dal punto di vista proprio dello styling però magari le ho viste sull'ultimo numero di Vanity Fair per cui assolutamente un must have lo compro e invece magari no cioè è un must have per qualcun altro non per noi per cui questo workshop che organizzo serve proprio alle persone ad orientarsi in questo mare magnum per poi portarsi a casa solo quello che effettivamente serve insomma giusto senti che volevo chiederti anche poi magari se hanno qualcuno anche che sta guardando la diretta se hanno domande potete scriverle parlando sempre di armocromia sì dicevi che appunto bisogna guardare il sottotono la pelle il colorito dei capelli e così via ma è d'estate quando ci sia bronza che cambia il colorito oppure se io cambio decido di diventare bionda mi cambiano tutti i colori quelli che mi hai definito all'inizio o rimane comunque c'è sempre una base allora se sei una fredda resti una fredda quello che tu puoi spostare cambiando per esempio il colore dei capelli o abbronzandoti è magari il sottogruppo di quella che è la tua stagione quindi se tu sei un'estate sei un'estate soft magari cambiando il colore dei capelli puoi aumentare o abbassare quello che è il parametro dell'intensità e del contrasto e quindi magari ti fa spostare nel cerchio delle stagioni verso il sottogruppo confinante però difficilmente tu puoi passare da essere una fredda a essere una calda cioè non è che è difficilmente è proprio impossibile potresti col colore dei capelli alterare quello che è la percezione di quella che è la tua stagione e facendoti sembrare un'altra cosa ma la pelle non tradisce il capello può tradire ma la pelle non tradisce anche perché se io sono una donna fredda e dovessi scaldarmi i capelli facendomi biondo miele la risultante sarebbe che la mia pelle sembrerebbe gialla e quindi non mi starà sicuramente valorizzando viceversa se io sono una calda e decido di raffreddarmi i capelli diventando platino per esempio la risultante del platino su una pelle calda è che questa pelle diventa grigia e quindi di nuovo non mi sto valorizzando quindi lo si percepisce che c'è qualcosa che non va è quello che dicevo prima la famosa dissonanza quella struttura che non capisci bene di cosa si tratta ma vedi che non funziona è esattamente questo per cui tutto si può fare si può essere anche una fredda e decidere di vestirsi di colori solo caldi ma sicuramente non otterremo l'obiettivo di essere in primo piano e di essere come dire valorizzate ok è un'altra domanda invece e per gli uomini vale valgono tutte le stesse regole visto che gli uomini di solito non hanno ampia scelta di colori poi magari non si tingono tanto i capelli sono brizzolate quindi valgono le stesse regole assolutamente valgono le stesse regole anzi per l'uomo è molto più semplice essere fedele alle regole perché hanno proprio questa poca scelta siamo noi donne che siamo come dire che cadiamo in tentazione proprio perché siamo bombardate di input di abiti di colori di capelli di rossetti di accessori e quindi ci viene questa frenesia questo plurito alle mani di voler comprare l'uomo se vuoi è molto più come dire inquadrato da questo punto di vista io so qual è la mia palette entro in un negozio è molto più semplice rimanere dentro il solco di quello che sono le mie regole siamo noi che cerchiamo siamo un po' un divaghe è vero noi ci mettiamo a guardare piano piano tutto quello che c'è invece l'uomo è molto più deciso sa cosa cerca cosa vuole sceglie e va beh ma insomma è la moda che ci induce a questo ovviamente se tu esci e vedi i negozi e i negozi sono pieni di cose belle sono belle a prescindere dal colore quindi è ovvio che l'istinto è quello di acquistarle bisognerebbe fermarsi contare fino a dieci e dire ok è bella per me cioè il passo successivo è farsi la domanda è bella per me quindi uscire dall'oggettività di quella che è la bellezza dell'oggetto per l'appunto se parliamo per esempio di una borsa e poi calarla in quella che è la nostra soggettività e quindi dire questa borsa è come dire la mia borsa mi rappresenta ecco bisognerebbe fare questo passaggio poi tu suggerisci nelle tue consulenze anche in base al tipo della forma in base alla forma del viso suggerisci che tipo di occhiali portare quali accessori abbinare anche qui c'è un altro mondo non solo i colori diciamo ma proprio un look proprio uno stile è quello che dicevo prima si parte dal colore perché è la base perché poi il colore serve a declinare anche tutto il resto per arrivare poi allo stile che attraversa le altre due fasi che hai citato tu cioè la fascia al shape cioè capire qual è la forma del viso perché in base a questa si decide che tipo di capelli portare a livello proprio di taglio di capelli che colore che orecchini che collane che occhiali che colori di occhiali che scollature che tipi di scollature di camice giacche cappotti la body shape quindi forma del corpo quindi sono la famosa clessidra piuttosto che la pera la mela il rettangolo questi sono tutti diciamo cioè la consulenza d'immagine è un percorso come dico io che è fatto di vari step quindi i primi tre step se vogliamo chiamarli così sono più legati a questioni un po' tecniche oggettive cioè tu oggettivamente sarai un inverno oggettivamente sarai una primavera perché hai il sottotono caldo freddo oggettivamente sarai una figura a clessidra perché le tue forme sono quelle si parte da tutte queste informazioni fondamentali per poi arrivare all'ultimo step che è quello più come dire importante che invece è chi sei tu come persona il tuo gusto la tua personalità il tuo carisma il tuo ruolo professionale il tuo lifestyle quindi si parte dalle basi di quelle che sono le fondamenta oggettive per poi andare a costruire sopra la casa le fondamenta sono uguali per tutti i palazzi poi però abbiamo il palazzo di ventipiani la villetta e quindi è quello che poi è il vero valore aggiunto di una consulenza cioè che che palazzo vuoi essere che identità vuoi avere e questa si va a costruire lavorando sulla tua soggettività che quindi deve essere un perfetto match deve avere come obiettivo la ricerca di un perfetto equilibrio tra tutte queste anime che sono andata a raccontare però uno può essere un po' avere un po' un mix di stili ad esempio tra lo sportivo elegante magari poi alla fine prevale uno probabilmente allora guarda io ho realizzato ve la faccio vedere perché così magari è un po' più chiaro ho realizzato questo strumento come esiste la ruota delle stagioni io ho creato la ruota degli stili cioè è un ventaglio che diventa una ruota dove praticamente io ho catalogato otto macro stili che a loro volta si suddividono in tre sottogruppi per un totale di 24 questo risponde già in parte alla tua domanda nel senso che si può avere più stili diciamo che ci sono persone molto centrate che hanno un solo stile quindi non so incontro una donna romantica è veramente romantica al 100% proprio la sua essenza la sua natura è di essere una donna romantica ci sono poi donne che invece magari sono romantiche però sono anche un po' seducenti molto molto bonton e quindi già come vedi abbracciano altri stili vanno verso altri stili che poi sono stili in un'ottica di ruota che possono essere o contigui in verticale o contigui in orizzontale io mi posso spostare in questa direzione ma anche in questa direzione diciamo che fino a tre ci può stare nel senso che il nostro lifestyle moderno contemporaneo in qualche modo soprattutto le donne ci porta a dover coniugare più anime perché magari di tuo sei una donna molto seducente però essendo una madre magari hai dovuto derogare al tacco 12 quindi ti metti magari una sneakers però sarà una sneakers alla moda no? quindi ci può stare che io possa essere un po' seducente un po' street style no? un po' casual no? perché metto insieme tutte le esigenze della mia vita quotidiana però la tua anima rimane comunque fortemente quella oltre tre stili diciamo che forse ci sarebbe bisogno di un consulente perché forse c'è un po' di confusione nel senso che forse non si è capito esattamente chi si è non ci si conosce veramente fino in fondo e quindi si passa da uno stile all'altro come in una perpetua ricerca di se stessi queste persone che a volte hanno più stili più di tre stili sono proprio quelle persone che hanno gli armadi pieni zeppi di roba ma proprio pieni 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 e se tu apri l'armadio di queste persone sono armadi senza identità perché dentro c'è tutto c'è la donna romantica come c'è la donna casual come c'è la donna vintage come c'è la donna mannish allora la domanda è tu chi sei per cui insomma a quel punto il lavoro non è di cercare uno stile ma di togliere di sfrondare tutti quelli che non ci appartengono e che sono maschere di noi per andare invece proprio al nucleo a capire veramente la tua essenza la tua identità di stile vera certo infatti perché tante volte sì come dicevi tu queste persone hanno gli armadi pieni e magari dicono non so cosa mettermi proprio perché sono anche confusi o non sanno neanche loro appunto cosa mettersi allora vediamo noi donne soprattutto noi donne ci sta che nel corso della vita viviamo diverse fasi voi legate anche proprio alle fasi diciamo legate alla nostra fisicità per cui non so l'adolescenza il fatto che diventi donna e poi anche le gravidanze cioè mamma questi eventi ovviamente segnano un passo anche sullo stile non è il grado però un fil rouge sotterraneo che collega tutti questi eventi ci deve essere perché in tutta è tu non è che puoi nascere come si diceva mia nonna patata e poi diventi zucchina bella questa allora vediamo se c'è qualche domanda intanto sì qua ripeto siamo nel gruppo purtroppo oggi la tecnologia per chi si è aggiunto dopo la tecnologia oggi ha dato un po' contro il primo aprile quindi anche io ho avuto oggi qualche problema comunque questa diretta poi la metterò anche sulla pagina così anche chi non ha potuto guardare la prima parte insomma potrà rivedersela allora vediamo se c'è qualche domanda che volete chiedere a Giovanna riguardo alla moda i colori poi magari ci dirai anche qualche chicca come prepararci quando finalmente potremo uscire di casa guarda me lo stanno me lo stanno chiedendo in tante anche perché ovviamente l'aria di primavera ci fa venire voglia di fare acquisti però il pensiero comune di tutti in questo momento è sì ma cosa compro a fare le cose che magari quando usciremo di casa farà già caldissimo e quindi bisognerà già pensare quasi al costume no? ecco allora io sto diciamo dicendo a tutti quanti che intanto se non riusciamo a sfogarci andando fisicamente nei negozi c'è l'online il che non vuol dire che bisogna fomentare come dire il i i i corrieri no? il fatto che i corrieri debbano girare per carità però uno può fare l'acquisto e chiedere la consegna fra un mese e mezzo non lo so però per esempio per farsi un'idea di che cosa andrà di moda in questa primavera e la prossima estate sicuramente uno può cominciare ad andare a guardare sui vari siti di abbigliamento no? e se vuole comprare qualcosa in modo che poi quando sarà finalmente arrivato il momento in cui possiamo uscire avremo già magari nell'armadio qualche abitino nuovo da poter sfoggiare no? e poi come dicevo prima ho organizzato questo webinar era nato come un workshop da fare in aula ma vista la situazione perché ho visto che sta organizzando un catwalking che è possibile è questo di cui stai parlando sì è lui sì è un webinar di tre ore mi sono anche appuntata che cos'è questo catwalking certo certo e dicevo è un webinar di tre ore l'ho organizzato per sabato 11 aprile dalle 10 alle 13 in queste tre ore andremo a vedere quelle che sono le proposte della moda per la stagione calda diciamo così dal punto di vista sia dei colori sia proprio degli abiti quindi cosa andrà di moda lo short piuttosto che le jam suite piuttosto che la gonna tubino oppure la gonna gypsy che cosa troveremo nei negozi quindi faremo una carrellata veloce di quelle che sono le proposte ma poi la parte più importante del webinar è capire rispetto a ogni partecipante e quindi in base alla sua stagione e alla sua fisicità quali di queste proposte sono quelle da tenere in considerazione per dire io sono una donna fredda una winter quest'anno la maggior parte dei colori proposti sono caldi cosa faccio non compro niente no comprerò quei due tre colori che sono freddi e poi cercherò di capire tra i colori caldi se ce n'è qualcuno che magari potrò comprare in abbinamento a qualche colore freddo e quindi si andrà a vedere anche quelle che sono le possibili combinazioni di colori in abbinamento per poter creare degli outfit che comunque appunto ci valorizzino e questo anche per quanto riguarda i vestiti quindi se ripeto quest'anno va di moda la gonna tubino andiamo a capire la gonna tubino quale fisicità va a valorizzare no sicuramente esatto esatto andrà a valorizzare non so la donna con la forma a rettangolo quindi vedremo fra le partecipanti se c'è qualche donna a rettangolo quindi a quel punto quel capo andrà bene a lei e si andrà a capire con che cosa abbinarlo per creare degli outfit ok in caso metto poi alla fine della diretta metto il link così se qualcuno è interessato a dare un'occhiata sia alla tua pagina che pubblichi tanti bei contenuti sia qua su facebook che su instagram io ti seguo più su instagram deve essere fin sera quindi metterò anche non so dove possono trovare sulla tua pagina facebook il link per il webinar dove la pagina facebook c'è proprio la sezione eventi ma comunque è in primo piano caso mai cerco metto il mio sito nella sezione workshop c'è quindi si trova un po' però poi ti giro il link non c'è problema sì sì tanto guardo se c'è ancora qualche domanda e se no comunque visto che qua nel gruppo sì c'è un po' di gente ma ho avvisato tutti sulla pagina caso mai quando pubblicherò il video c'è la nostra diretta poi ogni tanto se ci sarà qualche domanda nelle prossime ore o nelle prossime giornate te lo comunicherò così magari potrai andare a vedere perché sì in questo punto oggi abbiamo un po' cambiato il programmi invece di essere sulla pagina purtroppo non sono riuscita a far partire la diretta allora no non vedo vedo solo tanti saluti non vedo domande vediamo intanto c'è Enrica ciao Clara Laura non vedo particolari domande quindi non so se ci vuoi dare ancora tu qualche chicca altrimenti pian piano andiamo verso la fine ma più che una chicca quello che posso dire condividere con voi è una riflessione nel senso che la consulenza d'immagine oggi non è ancora un argomento molto come dire percepito nella maggior parte dell'immaginario delle persone insomma nell'immaginario comune delle persone è ancora pensato come una cosa che magari riguarda il mondo dello spettacolo gli attrici quindi la cura del personaggio in realtà valorizzarsi attraverso un percorso di questo tipo è un qualcosa che è come dire va bene per ciascuno di noi anche uomini comuni diciamo perché comunque abbiamo una nostra vita un nostro pubblico che è fatto di amici colleghi in ambito professionale soprattutto magari per chi ha anche una libera professione uno studio professionale un'attività commerciale insomma siamo in un mondo dove ormai bisogna metterci la faccia in qualche modo creare empatia con le persone quindi in realtà questo è un aspetto veramente da da considerare e non bisogna neanche spaventarsi dall'idea che questa attività questo percorso di formazione possa avere dei costi pazzeschi come a volte mi sono sentita dire ancora prima di parlarne perché in realtà è un percorso che ha lo stesso valore di altri percorsi simili scusate mi sta andando via la voce io dico è un bel investimento perché poi vai dopo a risparmiare nel senso quando vai a fare shopping perché quante appunto dicevamo proprio prima col fatto che sai già dove quali colori scegliere quali modelli in base alla tua forma del corpo ti stanno meglio risparmi tanto lì proprio fai gli acquisti giusti e intelligenti certo ma a monte diventa comunque un elemento di valorizzazione della tua persona che ha degli impatti importanti anche proprio a livello relazionale e veramente lavorare sulla propria immagine soprattutto in un contesto professionale può veramente incidere sul tuo percorso di carriera sulle gratificazioni che puoi ottenere sui successi che puoi ottenere cioè non è un fattore da non tenere in considerazione perché invece aiuta veramente tanto questo aspetto sentirsi bene piacersi è piacere se ci guardiamo lo specchio e siamo gratificati dalla nostra immagine questa energia positiva che si scaturisce poi noi la buttiamo fuori e vedrete che poi vi torna vi torna perché poi sono le persone che vengono da voi è come se aveste una forza attrattiva un richiamo il magnete che attrai è vero esatto cioè le persone si fermano magari solo l'aspetto del look il look non è soltanto scegliere cosa mettere per andare a un matrimonio o una cena il look è molto di più il look è chi curati proprio dal capello all'accessorio giusto al colore giusto alla scarpa giusta è vero perché il dettaglio ci racconta di noi se io quando vado a cena da una persona l'aiuto a toglierle il cappotto e io intravedo dal cappotto l'etichetta di questo cappotto e magari vedo che è un cappotto non dico di marca ma magari di una marca particolare artigianale cosa mi sta dicendo mi sta dicendo che questa è una persona evidentemente che ha del buon gusto molto raffinato magari sarà una persona anche da un punto di vista culturale di un certo spessore cioè capito c'è un'etichetta mi può dire tantissimo è vero e un'altra cosa ci tengo a dire che appunto tu fai l'analisi ad esempio del colore come ho mostrato prima io e se vai su internet tante volte si trovano appunto le palette che ne so spring summer e uno si va a stampare giù i colori però ho visto io anche ho provato ma non è proprio la stessa cosa e gli altri vanno comunque nel dettaglio cioè avere una consulenza veramente personalizzata è tutta un'altra cosa questo assolutamente uno di noi è unico non esiste una copia di noi nel mondo quindi nel mondo ci potranno essere centomila donne summer magari del sottogruppo soft light non lo so ma se parliamo delle summer light tra di loro nessuna sarà uguale all'altra e ognuno avrà la sua palette comunque esatto quindi perché entro altri fattori anche esatto quindi io assolutamente consiglio chi ha l'opportunità proprio di farsi una consulenza di regalarsi una consulenza con Giovanna che è di Milano ma tu fai anche in giro consulenze se non sbaglio a parte adesso allora sì io vado anche a casa delle persone diciamo nel raggio di un tot di chilometri certo se si parla di Palermo diventa un po' più complicato insomma però faccio anche le consulenze online bene buona sapersi perché è interessante ho sviluppato un protocollo di lavoro tale per cui riesco a fare anche le consulenze online senza inficiare sui risultati insomma ecco io ho apprezzato molto anche il fatto che appunto quando ero in dubbio sull'acquisto ti ho mostrato la foto ho mandato per Whatsapp la foto Giovanna è nella mia palette e quindi anche questa consulenza durante l'acquisto è molto preziosa beh diciamo che la consulenza inizia quando le persone escono dalla mia porta perché durante la sessione di lavoro insieme in realtà io ho dato molti dubbi ho installato molti dubbi no? ho tolto anche delle certezze no? quindi le persone entrano convinte di una cosa e ne escono magari un po' più vulnerabili no? un po' indecise disorientate quindi per me è importante esserci soprattutto dopo io regalo sempre due mesi di tutorial successivi all'incontro proprio perché le persone quando tornano a casa e cominciano a rielaborare e a farsi venire le domande in quel momento io devo essere lì a rispondere a quelle domande cioè non è che ti mollo lì nei tuoi dubbi amletici arrangiati con la tua palette no? eh certo perché se no non ho fatto bene il mio lavoro invece io ci sono proprio perché così quando vengono i dubbi li sciogliamo insieme ne parliamo insieme mi mandi le foto di quello che è nell'armadio di quello che hai comprato le foto di outfit che hai creato tu e magari io ti dico no questa maglia starebbe bene con un'altra gonna insomma cose così bene bene ok allora chi ci saluta qua vedo dei saluti mi giro scusate perché io anche il computer così guardo di qua e di là sì e niente non vedo domande e quindi direi che possiamo pian pianino terminare questa diretta e se la diretta comunque rimane pubblicata quindi chi si è perso la prima parte può riguardarsela scrivere le domande poi in caso Giovanna risponderà in un secondo momento certo bene allora dimmi scusami dicevo senz'altro guarderò se ci sono domande per rispondere certo io adesso metterò tutti i tuoi contatti così chi vuole curiosare a poter dire tutti questi argomenti sull'armocromia sullo stile sulla moda può andare a sbirciare sulle tue pagine e metterò anche il link del tuo webinar che hai detto è l'11 l'11 aprile che è un sabato dalle 10 alle 13 perfetto metterò anche quello così se qualcuno è interessato può anche iscriversi al webinar guarda ho deciso di proporlo a un prezzo politico di 30 euro proprio perché così visto che si è a casa e ci si annoia magari uno decide di passare tre ore in modo diverso insomma caspita bene è numero chiuso o c'è ancora qualche post no no perché tanto è un webinar quindi la piattaforma è aperta possono partecipare ok bene sì sì perfetto allora io ti saluto ti ringrazio prima di tutto grazie per la tua disponibilità scusa per di problemi tecnici però purtroppo lo sai anche tu il problema delle dirette e non sai mai cosa quindi un abbraccio grande Giovanna grazie e alla prossima ciao a tutti ciao 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 allora grazie a voi che avete seguito la diretta oggi era un po' fuori programma nel senso che non sono riuscita a pubblicarla sulla pagina viso in forma ma comunque abbiamo avuto il prezioso contributo di Giovanna e adesso vi metto tutti i link e vi suggerisco di andare a curiosare anche sulla sua pagina io vi saluto vi auguro una buona serata e ci vediamo domani sempre alle 5 e mezza e sperando di non avere problemi tecnici che ho avuto oggi però purtroppo oggi è il primo aprile e forse tutto questo è uno scherzo c'è stato qualche scherzo non lo so un abbraccio a tutti e buona serata ciao grazie a tutti